John Hickson John Hickson Eccolo lì! Wilson, è ora di lavarsi? No, mai! Wilson, torna indietro! Ma dove sarà finito? Mi nascondo, mi nascondo! No, non è neanche qui! Chissà per quale motivo non vuole farsi lavare! Perché a sere sudici è più divertente! Ma dov'è finito? Wilson è scomparso! Perché lui è in assoluto il trenino più bravo a nascondersi! Allora forse dobbiamo riuscire ad attirarlo verso di noi! Andiamo, prendiamo lo sparafoglie! Wow, guarda quante foglie ci sono! Ah, non riesco a vedere nulla! Bruno! È giunta l'ora di lavarsi, Wilson! Please! Lasciatemi andare! Scusa, Wilson! No! No! Per favore, non fatelo! Va tutto bene, Wilson! È divertente, vedrai! Mi fa il solletico! Ah, 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 ah! Sono stato tirato a lucido! Devo ammettere che... Sono bello! Te l'avevo detto! Guardatevi, trenini! State luccicando! Oh, questo non è proprio il mio giorno fortunato! Attenzione, prego! È ora di prepararsi, apprendisti! Tra dieci minuti avrai inizio l'esame! Oh, no! Ora cosa posso fare? Hey, Wilson! Ma dov'eri finito? Tra poco inizierà il nostro esame! Lo so, e io non sono ancora in grado di farlo! Perché no? Guarda! Wilson, basta ricordarsi le rime di Dunbar! Se passeggeri in viaggio devi portare, senza scatti devi guidare! Quando Wilson viaggia con dei passeggeri, se loro traballano non viaggiano volentieri! Fantastico! Ci sei! Continua, Wilson! Ah? Con le rime funziona! I manichini non si muovono più, Wilson! Ora sì che sei davvero concentrato! Ah? È vero! Ci riesco! Ora so cosa fare! Devo solo rimare! Mi devo solo concentrare! E morbidamente andare! Vai, Wilson! Ora sta andando davvero forte! Ciao! Ciao! Se prima Wilson era un trenino traballante, adesso è diventato brillante! Non sembra più un elefante! Se concentrato guiderò, l'esame passerò! Sono veloci, Wilson e Coco! Fare tardi non si può! E... Via! 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 Forte! Vi siete guadagnati la medaglia che serve a dimostrare che voi trenini apprendisti! Con cautela sappiamo viaggiare! Ehi! Guardate chi c'è! Mister Morbidezza! Ma tu dovevi metterlo sul cano, non su di me! Noi vogliamo indietro Frostini, chiaro? Ma anche io sono un bravo trenino da gelati! No, non è vero! Tu sei un pessimo trenino da gelati! Frostini! Frostini! Vogliamo quei Frostini! Sì! Lui è grande! Tu no! Frostini! Non sono... Frostini! Vogliamo quei Frostini! Frostini! Vi! Hai notizie del vecchio Pete? No, da quando ha lasciato la stazione! Oh! Spero che stia bene! Forse dovrei andare a controllare! Sarebbe un bel gesto, Coco! Pete non ama questo clima caldo! L'ho visto dirigersi al deposito di legname! Oh, grazievi! Oh, accipicchiola! Neanche un bambino! Non piaccio proprio a nessuno! Oh! Tu sei il trenino dei gelati! Sì! Sì! Una specie! Ho davvero molto caldo! E vorrei un bel gelatone! Ma io non sono tanto bravo! A me sembri un tipo a posto! Davvero? Perfetto! Arriva il gelato! Abbiamo fragola, cioccolato e ciliegia! Caffè, caramella al gusto di caramello, banana e... Quanti gusti! Allora che ne dici se ti do un po' di tutto? Sì! Ma questo è il gelato più grande che io abbia mai visto! Ed è squisito! Grazie, tu sei il migliore! Davvero? Ma io non sono bravo come Frostini! Sì che lo sei! Sei solo diverso! Tu sei... Tu! Quindi io, per essere fantastico, devo essere solo me stesso? Sì! Noi non abbiamo bisogno di due Frostini! Non ci avevo pensato! Essere me stesso è sicuramente più facile! Ciao! Ci vediamo! Sì! Forza Bea! È ora di mettersi al lavoro! Oh! Non mi sento molto bene! Che cos'hai? Mi sento molto stanca! Oh no! Credo che sia meglio che io resti qui oggi! Oh! Ho bisogno di molto riposo! Oh! Va bene! Allora devo dire a V di avvisare il signor Damba! Perfetto! Così non dovrò fare quel noiosissimo lavoro! Nessun problema rilevato! Nessun problema rilevato! Puoi dirmi esattamente che cosa ti senti? È come se all'improvviso non avessi più energie! Faccio molta fatica quando devo muovere le ruote! Beh, forse ci sarebbe una spiegazione, ma è una eventualità molto rara! È semplice, il tuo motore riceve energia da un volano! Un volano? Sì sì, è quello! Scommito che è proprio lì il problema! Oh! Ed è una cosa seria? Sì, molto! Povera Bea! Un'imbracatura! Ma perché non posso andare sulla piattaforma rotante? Perché purtroppo dovrò smontarti le ruote! Le mie ruote! E poi dovrò smontare anche il motore! Puoi togliermi il motore! È un lavoro lungo e quindi resterai qui tutta la notte! Rimanere qui tutta la notte! Tutta da sola! Oh no! Che cosa ho combinato? Deve essere arrivato quel pezzo! Va bene Bea, possiamo iniziare! Prima le ruote! No! Non aver paura! Marco si prenderà cura di te! Fidati, è molto bravo! Ma non c'è niente che non funziona in me! Che vuoi dire? Me lo sono inventato perché non volevo fare il lavoro che ci aveva assegnato D'Ambar! Oh Bea, ma come hai potuto? Ci siamo fatti tutti in quattro per te perché stavi male! Eravamo così preoccupati! Scusate, mi dispiace tanto! Nemmeno qui niente! Oh! Cos'è quello? Un cartello pericolo leoni! E questo è un ruggito! Sembra proprio quello di un leone! Forse un leone è fuggito! Questa sì che è una vera emergenza! Aiuto! 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 Un leone è scappato! Un leone? Dov'è? Là giù! Chiama D'Ambar! Veloce! Aiuto! Fatemi passare! State indietro! Me ne occuperò io! Dov'è il leone? È in quella rimessa! Ascolta! Ho paura! Oh! Penso si sia svegliato! Cos'è questo baccano? Un trenino non può più schiacciare un pisolino in pace! Oh! Pensavo che tu fossi un leone! Beh, non lo sono! Sefi, non devi lasciare che la tua immaginazione ti faccia uscire dai binari! Scusi! Ciao, scogliattolo! Ti andrebbe di vedere la mia nuova sirena! È meravigliosa! Perché non ti muovi? Oh! Oh! Sei rimasto bloccato su quell'albero! Ma aiuto! Ma aiuto! Ora qual è l'emergenza? Quello scogliattolo è rimasto bloccato sull'albero! Cosa? Ma lui vive lì! No! Non riesce a scendere! Non scende perché ha paura di te! Oh! Ho trovato! Proviamo a dargli una luce! Ascolta, Sefi! Questa è già la terza volta che azioni la sirena! Temo che tu non sia ancora pronta a usarla! Ma io la adoro! Ora la riporto a Marco! Va bene? Mi dispiace, Sefi! Non riesco a vedere nulla! Non troverò mai la casa del dottor Gosling! Bruno, svegliati! Cosa? Cosa? La ricordo! Marco, mi aveva detto che Coco non doveva usare troppo il fanale perché doveva cambiargli la lampadina! Oh oh! Ma lei è in servizio, quindi il fanale sarà acceso tutta la notte! Presto dobbiamo controllare se va tutto bene! Che cosa posso fare, signor Gufo? Aspetta, aspetta un momento! Gli animali notturni usano i loro sensi per orientarsi quando cala la notte! Sento il profumo dei fiori! Quindi gira a sinistra l'altezza dei fiori selvatici! Questo deve essere il rumore del fiume! Quindi di sicuro qui c'è il ponte che porta alla collina! C'è una luce laggiù! È la casa del dottor Gosling! Ce l'ho fatta, signor Gufo! Coco, ora mi ricordo! Marco ha detto che la tua lampadina deve essere cambiata! Troppo tardi! Mi ha trovato ugualmente anche senza! Perché non racconti ai tuoi amici le tue avventure notturne, Coco? Mentre io mi occupo del parto della nostra amica giraffa! È un vivacissimo cucciolo! Femmina! Possiamo vederla! Ti prego! È davvero grande come cucciolo! Sì, lo è! Grazie per il tuo aiuto, Coco! Nessun problema! Kelly, che succede qui? Eh? Aspetta! Non sei con Max a riparare il binario? Cosa? Quale binario? La linea gialla è bloccata da ore e Max è partito con l'occorrente per ripararla e credevo che tu fossi insieme a lui! Ah! Oh! Allora è di questo che parlava Marco! Dove avrò la testa? Oh oh! Spegnilo con l'omido! Ti sto provando! Mi dispiace, Wilson! Te l'avevo detto che era tutto inutile! Io non ce la posso fare! È stato sciocco sperare di riuscirci! Torniamocene indietro! Su, ce la farai! È che mi sono avvicinato troppo alla calamita! È stata colpa mia! Starò più attento! Riproviamo! Mmh... Ok... Così, bravo! A gancio perfetto! No! Che succede, Wilson? Spegni subito quella calamita! Fatto! Max, che fai? Oh, accipicchiola! Ora abbiamo tre binari fuori uso! Cosa? Oh no! Ora la linea dovrà restare chiusa ancora più a lungo! V, tieni ancora chiusa la linea! Noi non siamo ancora pronti! Dove stai andando, Max? A cercare aiuto! Ma puoi farsela anche da solo! No, non posso! Non so manovrare la calamita! Ho bisogno di Edo! Ascolta! L'importante è spegnere la calamita quando non ne hai bisogno! Ti darò io il segnale! Andiamo! Lo so! Lo so che ce la puoi fare! Ma... Ne sei davvero convinto? Ma certo! Ruotala ancora un pochettino! Così è perfetto! Adesso metti la giù! Spegni la calamita! Bravo! Ottimo lavoro! Ce l'hai fatta! Trintastico! E ora è il prossimo! Vai, Coco! Vai, Coco! Vai, Coco! Vai, Coco! Coco! Non riesco a muovermi! Sì, certo! Non ci casco più nei tuoi trabocchetti! Ma no, Coco! Non è un trucco! Aiuto! Fuori attenzione! Treno fermo! Uh-oh! Renata l'emergenza! Tieni duro, Wilson! Stai bene? Sì, adesso sì! Grazie! Ma se mi traini, sarei molto più lenta! Non preoccuparti, Wilson! Sarà divertente! Non posso deludere i miei fan! È ora di vincere quel trofeo! Un'altra volta! Sto arrivando! Oh, ero sicuro che ti avrei battuto! Ah, non devi essere triste per questo! Dopotutto, senza i perdenti, non ci sarebbero i vincitori! Sì, fa così! Vai, Pizza! Vai! Faccia il trofeo! È tuo, amico! Io cosa? Io sono... Non è possibile! Occhio al traguardo, perché il vincitore ancora una volta sono io! Il campione di quest'anno è il nostro caro vecchio Pete! Battuto da una vecchia pentola a vapore. Oh, che vergogna! Avresti potuto vincere se non mi avessi aiutato! Forse! Ma aiutare te era molto più importante che vincere! Mi dispiace di essere stata antipatica! Anche a me! Amici! Amici! Ritengo che io non meriti di vincere il trofeo! Praticamente io non ho corso! Vuol dire che il vincitore di quest'anno è... Coco! Ura! Wilson! Ciao, Coco! Che è? Già mattina ho vinto! Ora svegliati, Wilson! Sei in ritardo! Cosa? Dovevi già essere all'ufficio smistamento! Oh, no! Davo fare il più in fretta possibile! Sono qui! Mi dispiace, sei arrivato troppo tardi, Wilson! Christian è dovuto partire per portare la posta nelle stazioni succursali! Oh, no! Questa proprio non ci voleva! La posta qui a Chuggington non era mai arrivata in ritardo prima d'ora! Sono davvero mortificato! E se adesso smistassimo noi la posta e la portassi nelle varie succursali? È una buona idea, ma non saprei cosa dire! Penso che ci vorrà davvero molto tempo! Ma sono io che ho causato questo ritardo! E se posso vorrei rimediare! Se lavorerò duramente, posso ancora farcela! Beh, suppongo che non abbiamo niente da perdere! Va bene, tesoro! Subito al lavoro! Grandi! Questa volta sarai orgogliosa di me! Eccoti qua! Ce l'ho fatta, vi! Ho consegnato tutta la posta! Ben fatto, Wilson! Sono orgogliosa che tu sia riuscita a sistemare le cose! Mi dispiace di aver deloso tutti! Non succederà ancora, te lo prometto! Bene! Spero che tu abbia imparato qualcosa oggi! Sì, vi! Dormire è davvero importante! Sì, lo è! Continua a riempire! È meglio che non ti sovraccarichi, Bruno! Non preoccuparti! Io sono molto, molto, molto forti! I portelli sono chiusi e pronti per il carico! Oh, ma mi hai lasciato solo la polvere, Bruno! Oh, scusa! Va bene, ci vediamo alla prossima! Siate prudenti! Ehi, rallenta, Bruno! No, sbrigati, trenino lento! Andiamo, voglio tornare presto! Wilson, un treno lento! Non hai sentito cosa ha detto il signor Dunbar? Ma di che parli? Ha detto di essere molto prudenti al ritorno! La discesa è più difficile! Come fa una discesa ad essere difficile? La discesa è facilissima! Forse hai capito male, Wilson! No, non è vero! Scommetto che non eri abbastanza attento! Come al solito! Sì, che lo ero! Rallenta, Bruno, per favore! Non c'è nulla di cui preoccuparsi! Bruno, fermati! I freni non funzionano! Aiuto! Scivola sulle rataie! Oh, no! Io devo fermarlo! Aiuto! Sì, Wilson e Bruno hanno fatto un buon lavoro! Ho appena saputo che hanno lasciato la cava! Oh, sono felice di saperlo! Ero un po' preoccupato per loro! Non c'è niente di cui preoccuparsi! Bruno, abbandona il carico! Cosa? Non ci riesco! Aspetta, forse so come fare! Comarco ha funzionato! Non riesco a fare presa sulle rotaie! Aiuto! Aprire i portelli! Wilson, ma cosa fai? Prova a frenare! Cosa? Oh, sta funzionando! Riesco a far presa sui binari! Grazie, Wilson! Amico, mi hai salvato! Figurati! Come hai avuto quest'idea? Ricordi quello che ha fatto Marco quando è scivolato sull'aglio? Davvero geniale! Qual era la regola d'oro quando si incontra la signora nebbia? Piccolo cieco! Sta' attento! Scusami, Coco! Non c'è speranza! Non si riesce a vedere nulla! Già! Resteremo bloccati finché la nebbia non scompare! Ma io voglio andare subito a casa! Oh, accipicchi! Adesso cosa dirà, V? È stata tutta colpa mia! La mia eccessiva premura li ha spinti ad allontanarsi! Oh, no! La signora nebbia! Come riusciranno a cavarsela se avessi permesso loro di sperimentare le cose? Ora sarebbero più preparati! Le tre regole d'oro sono... Aspetta! Una di quelle era rallenta, vero? Sì! Mantenete un'andatura lenta! Poi accendete i vostri fari! E poi soffiate! Wilson, penso intendessi suonare il fischietto! Ops! Rallenta e illumina fischia! Rallenta e illumina fischia! Rallenta e illumina fischia! Rallenta e illumina fischia! E il problema è che ancora non sappiamo da quale parte andare! Oh, non avremmo mai dovuto lasciare Allwin! Lei saprebbe cosa fare! Se non sbaglio questi sono i miei piccoli trenini! Ehi, avete sentito il fischio? Sono sicura che è Allwin! Allora seguiamo i suoi fischi! Bene, trenini! In fila indiana! Seguitemi! Rallenta e illumina fischia! Rallenta e illumina fischia! Bravi i miei piccoli trenini! Continuate ad avvicinarvi! Questa è la strada giusta! Rallenta e illumina fischia! Grazie al cielo siete tutti sani e salvi! Siamo davvero felici di vederti! Vi siete ricordati delle tre regole d'oro! Sono molto orgogliosa di voi! Ci insegna altre cose! Ne sarei veramente lieta! Davvero? Urrà! Che cos'era? È un drago! Un drago! Un drago! Sefi! Sefi, stai bene? Mi sa che Sefi si è spenta! Non si muove! Presto, Bruno! Tu che non hai paura di nulla! Devi andare da lei ad aiutarla! Va bene! Allora entro! Enorme! Aiuto! Aiuto! Bruno, aiuto! Sefi, conta su di me! Arrivo, Sefi! Bruno, il coraggioso, sta arrivando! Aiutatemi! Hai sentito? Il drago sta ridendo di Bruno! Ammetto di essermi spaventato, ma questo non è un drago! È troppo piccolo! Una rana! Ora stai bene, Sefi! Sì, sto bene! Grazie per avermi salvata! Sei stato davvero coraggioso! Anche se il drago era solo una rana, ma cos'era quel ruggito? Nella galleria c'è un ottimo effetto eco e anche se a volte le cose sembrano spaventose, c'è sempre una spiegazione! Ho capito cosa volevi dire, Bruno! Vedete? Sono solo Mambo e Vicky! Anche loro cercavano il drago a quanto pare! Oh, grazie! Avete trovato il ranocchio mancante! Oh, ma così è carino! Siamo pari! Beh, ottimo lavoro, Coco! Ora devo andare a riposare un po'? Guarda! Coco e Harry hanno vinto la medaglia dell'alta velocità! Yeee! Veramente, questo tipo di medaglia è sempre esistita, ma nessun apprendista l'ha mai vinta, nemmeno Harry! E tu invece? Io non sono un treno fatto per correre come Coco! Sarebbe perfetta per te! Già! Chiedi a V se puoi gareggiare! Sarei la prima a vincerla! Per vincere la medaglia dovrai completare il tragitto in 30 minuti! Chiaro, V! Pronti? Partenza... Via! Yuppi! Vai, Coco! Sei verde! Sei bianca? La più veloce? E mai stanca! E Coco parte a tutta velocità! Chiu-chiu! Devo resistere! Coco sembra stanca! La velocità è diminuita e mancano solo 5 minuti! Andiamo, Coco! Tieni duro! Non riuscirò mai a raggiungerla! Sono stanca! Su, andiamo, Coco! Ingrana la marcia! Mi mancano le forze! Tu puoi farcela! Sei verde! Sei bianca! La più veloce e mai stanca! Se c'è qualcuno che può vincere, quella sei tu! Vai, Coco! Vai, Coco! Mancano due minuti! Il tracordo si sta avvicinando! Riuscirà Coco a farcela? Ma certo che ce la farà! Vai, Coco! Vai, Coco! Vai, Coco! Puoi farcela! Forza! Prova, Tudi! Sì! Congratulazioni, Coco! Non riuscirò! Da oggi sei il primo trenino ad aver vinto la medaglia dell'alta velocità! Yippee! Ben fatto, Coco! Cos'è quella roba? Aiuto! Aiuto! Non preoccuparti, Christian! Pulirò tutto in un colpo di fischietto! Hai risposto alla mia richiesta di aiuto! Proprio come avrebbe fatto un super trenino! È colpa mia se il binario è bloccato! Io sono tornato per rimediare! Ho scaricato il mio carico qui invece di portarlo alla fonderia! Volevo tornare in tempo per il film! Oh, capisco! Sai, anch'io speravo di riuscire a tornare in tempo per il film! Scusa! Sarò super veloce! C'è qualcosa che non va, Edo! Di sicuro sono scoppiati bene! Delizioso! Stai bene, Max? Sì, per fortuna l'ho spenta! Scusa, amico! Devo aver messo troppo mais! Sarà meglio rimettere tutto a posto! Ecco fatto! Meraviglioso, Bruno! Se ci sbrigiamo, possiamo ancora farcela! Non posso! Devo portare il carico alla fonderia! Superlock sarebbe molto orgoglioso di te! Forse non sarai un super trenino, ma per me sarai sempre un eroe! Grazie! È bello fare la cosa giusta! Oh, cipicchio, l'ho perso tutto il film! Oh, eccoti, Bruno! Buone notizie! Il film non è ancora cominciato! Davvero? Sì, ho avuto un piccolo incidente! Già, ci è voluto un secolo per mettere in ordine! Per tutti i fischietti! Nonostante tutto, riuscirò a vedere il film! Sìììì! Ma sei tu! Allora appartieni a qualcuno! È una bambina! E sta cercando di trovarti! Io volevo tenerti con me! Potrei far finta di non aver mai visto quel giornale! Coco? Va tutto bene? Oh, sì! Va tutto bene! Ehi! Vuoi che lo faccia riciclare? Grazie! Edo! Aspetta! Che cosa c'è, Coco? Penso sia meglio che tu dia un'occhiata all'ultima pagina! È freccia! Sì! Qui in città c'è una piccola bambina che ama freccia! Probabilmente più di me! Mi dispiace, Coco! So quanto ti eri affezionata a lui! Sì! Ma lui non appartiene a me! Andiamo, piccolo amico! Sali! Ora ti riporto a casa! Sai una cosa? Sono proprio orgoglioso di te! Lampo! Oh, non sai quanto mi sei mancato! Ti ringrazio molto per averlo riportato a casa! Ma dove l'hai trovato? Era tutto solo nel parco dietro il deposito! Piccolo manellaccio! Lo sai che ti abbiamo cercato ovunque! Il mio nome è Jenny! Felice di conoscerti! Io sono Coco! Grazie per esserti presa cura di lui, Coco! È un po' indisciplinato, non è così? Sì! È stato molto difficile fare i miei esercizi e badare a lui! Non sapevo che un animale avesse bisogno di tante cure! Beh, è meglio che io vada! Ciao, Jenny! Ciao, Freccia! Volevo dire... Ciao, Lampo! Coco! Sì? Puoi tornare a trovare Lampo tutte le volte che ne avrai voglia! Sul serio? Ma certo! È una cosa fantastic! Cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia! Il treniro alle grova Sulle rotaie Cla-che-ti-cla Sempre in orario per i passeggeri Trasporto a marci e batti leggere Cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia-